La ristrutturazione con pedaggio per i mezzi pesanti L'assessora Monia Monni fa il punto in aula sulla vicenda Cheu, rispondendo a un'interrogazione di Francesco Gazzetti Commissione vaccini, le relazioni di maggioranza e quelle di minoranza L'obiettivo è quello di potenziare la FIPILI con corsia d'emergenza e, dove è possibile, anche con la terza corsia Così il presidente della regione, Eugenio Gianni, ha risposto in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi in merito all'introduzione del pedaggio per i tir sulla FIPILI Noi abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da KPMG, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc una società in house della regione, Toscana Strada S.p.A., che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPILI, ma possa, certo a tratti, con scansioni diverse ma provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza corsia dove è possibile e, altrimenti, realizzando corsie d'emergenza, che oggi non ci sono Così, quando anche avvengono i lavori di manutenzione ai lati o al guardrail centrale può essere, a quel punto, mantenuta la direzionalità, come avviene in autostrada, per tutte e due le corsie evitando, quindi, che anche i semplici lavori di manutenzione ci tengono qualche mese con file di 5-6 km e poi anche quando riabiliti hai semplicemente fatto la manutenzione ma non c'è la possibilità di pensare a un futuro migliore Per far questo occorrono almeno 15-20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai TIR che possono essere controllati con il sistema satellitare con 5 grandi strutture che siano archi metallici e che possano controllare, verificare e essere rete di un controllo satellitare di cui sistemi ha la società autostrada Abbiamo portato il tema del pedaggio ipotizzato dal Presidente della Regione Toscana sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno Chiaramente questo deve avvenire in seguito alla Costituzione di Toscana Strade che è questo soggetto che dovrà poi gestire questo passaggio di gestione sulla superstrada quello che noi abbiamo chiesto è stato intanto di valutare attentamente innanzitutto a chi si riferisce perché si tratta di un'ipotesi di pedaggio selettivo cioè per i trasporti oltre le 3 tonnellate e mezzo noi abbiamo fatto anche valere il fatto che si potesse pensare a un'ipotesi anche ultra selettiva cioè soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione non per i mezzi immatricolati in Toscana quindi già questo è un'ipotesi che il Presidente ha preso in considerazione La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla e questo è sicuramente un elemento positivo che noi come centro-destra avevamo anche nel nostro programma elettorale Sulla Firenze-Pisa-Livorno serve massima attenzione da parte di Italia Viva verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in house quello che serve non è mettere un balsello di natura economica contro le imprese o contro i tir con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro serve fare un grande investimento la società in house può essere un'idea ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto su livello nazionale in gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse e di fare questo investimento la società in house può essere un buon volano di investimento ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti e quindi la competenza passare di livello regionale ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano quanto ovviamente dal governo su questo entriamo nei dettagli nel momento in cui la proposta verrà predisposta e arriverà in consiglio regionale adesso è soltanto un'ipotesi su questo Italia Viva vuole dimostrare di essere al fianco delle imprese al fianco degli autotrasportatori al fianco della Toscana che lavora, che si muove, che produce io credo che l'analisi e le considerazioni del presidente Gianni su come porre un rimedio alla situazione della Firenze-Pisalivorno che rende impossibile la vita di due terzi dei toscani per quanto riguarda i trasporti siano surreali sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio con delle gravi criticità e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto un rapporto che è sul piano finanziario e quello probabilmente sì sarà riuscito a trovare un sistema per far quadrare i conti ma sicuramente non tiene conto di cosa significa per tutte le aziende per tutto il sistema manifatturiero e commerciale il tessuto economico della Toscana che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria significa non capirne le conseguenze economiche in un momento tra l'altro in una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti Un elenco dettagliato degli interventi messi in atto dalla Regione fino a questo momento nella vicenda Cheu è stato consegnato dall'assessore all'ambiente Monia Monni ai consiglieri regionali come parte della risposta a un'interrogazione in merito alle attività di monitoraggio e di bonifica nei territori interessati presentata dal consigliere Francesco Gazzetti Le parole dell'assessore Monni che ringrazio perché ha offerto all'Aula una ricognizione precisa, puntuale a nostro modesto avviso vanno in una direzione esattamente opposta sono stati forniti dati è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti la volontà della Regione Toscana di costituirsi parte civile l'appello tra l'altro ecco questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale sul resto anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessore Monni così come annunciato in Aula in Consiglio regionale penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione CEU con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle Toscane e dei Toscani La nostra posizione è che le bonifiche da parte della regione toscana sono in ritardo la maggioranza ha bocciato anche di recente una nostra mozione che chiedeva ad ARPAT un indirizzo specifico per compiere le bonifiche su quelle aree interessate dal CEU e crediamo che da questo punto di vista la relazione dell'assessore all'ambiente non sia stata soddisfacente tra l'altro risposta a un'interrogazione da parte di un Consiglio di maggioranza insomma se la volevano cantare e suonare però alla fine siamo riusciti a intervenire su questo argomento perché chiaramente anche il fatto che la regione toscana si faccia parte in causa e quindi vittima di quello che è successo anche in sede giudiziaria è un atto assolutamente scontato quindi per noi doveva e deve essere così perché il danno che hanno subito i cittadini toscani su questa infiltrazione mafiosa e questa indagine poi sicuramente non riguarda l'ambito politico però poco si è fatto e quindi c'è ancora molto da fare noi come opposizione cerchiamo di essere sempre costruttivi e stimolanti anche su questo tema è la preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti CEU abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è un dubbio un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da Arpat e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca nel corso degli anni si parla dal 2014 in poi che all'improvviso si sono dimezzati sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da Arpat perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto sono state presentate in aula le relazioni di minoranza e di maggioranza a cui si sono chiusi i lavori della commissione di inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messi in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta al Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale pensiamo agli alberghi sanitari ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid una riorganizzazione profonda alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente per usare un termine assolutamente in voga nei nostri giorni chiaramente potendo contare su un sistema articolato che ha saputo dare risposta analoga e basandosi sia sugli operatori sanitari sul mondo del volontariato ma anche sui sindaci sul sistema delle farmacie sui medici di medicina generale pediatri libera scelta e oggi ancora oggi vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale con una copertura di vaccinazione molto importante anche con un'efficacia attraverso il lavoro degli AB e dei medici di medicina generale ha saputo raggiungere capillarmente ogni porzione del nostro territorio Il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale di tutto il terzo settore di questa Regione Toscana che è un patrimonio una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore della rete ospedaliera con il territorio partendo chiaramente dagli ospedali di periferia di lavorare chiaramente in attesa degli interventi del governo sulla carenza di personale la formazione del personale e la dislocazione di questo personale però un punto fondamentale serve perché abbiamo riportato al centro di tutta questa storia il cittadino il toscano c'è l'esigenza anche di tornare a formare ed ed educare il toscano sotto i profili dell'alfabetizzazione della digitalizzazione e anche della capacità sostanzialmente di poter avere dei riferimenti chiari in situazioni come queste che chiaramente aspichiamo non si verifichino più Grazie a tutti